Buongiorno, brevissimo tutorial su come si calibra la smartboard. E' molto semplice, in basso a destra troverete appunto l'iconcina della smartboard. Cliccate con il tasto destro del mouse e avrete tutta una serie di opzioni. Tra queste scegliete impostazioni smart e cliccate su orienta allinea prodotto smart. che si trova appunto sotto la voce attività. Ora non è collegata a nessuna smartboard ma vi faccio semplicemente vedere una volta cliccato questo mirino che cosa succede. Praticamente alla lavagna, la lavagna smart vi propone dei ulteriori mirini su cui cliccare e voi non dovete fare altro che fare come fa la collega nel video. ovvero cliccare esattamente sui mirini ed il gioco è praticamente fatto.